Hey guys, I'm Alex Marte from nerdplay.com Ho il piacere di invitarvi venerdì 15 marzo allo Scornite Club in Miami al Tears in Miami dancing in the party with stars Venite a ballare con me tutta la notte e vi aspetto anche sabato 16 marzo alla festa sullo Yom Don't miss this tonight, beware, hope you are there